Nuovo imbarazzo diplomatico tra Unione Europea e Cina. Stavolta riguarda un editoriale scritto dall'ambasciatore europeo a Pechino per il China Daily. Nel testo pubblicato manca il riferimento al luogo dove il virus è nato, ovvero la Cina. Questo editoriale è stato redatto e concordato in occasione del 45esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Unione Europea e Cina. E ci rammarichiamo che questo editoriale non sia stato pubblicato integralmente. La notizia della pesante modifica al testo originale arriva due settimane dopo che il capo della politica estera europea, Joseph Borrell, ha ammesso di aver ricevuto pressioni da parte di Pechino per cambiare il registro di un rapporto sulla disinformazione cinese. Ai microfoni di Euronews, Borrell ha spiegato la complessità delle relazioni diplomatiche con la Cina. E' del tutto normale che le grandi potenze facciano pressione usando i canali diplomatici, soprattutto se c'è qualcosa che non le aggrada. Anche noi facciamo la stessa cosa. L'importante però, quando si riceve una pressione, è reagire, non subirla. Borrell ammette che avrebbe potuto fare di più per comunicare in modo trasparente le pressioni ricevute da parte della Cina, che però ricorda essere un grande partner commerciale. La precedente commissione aveva definito la Cina come un rivale storico. Io non sono dello stesso parere, perché se da un lato resta una componente di rivalità, dall'altro va detto che la Cina è diventata un partner commerciale, un concorrente in campo economico. Ci sono molti aspetti da analizzare. Non si deve fare l'errore di guardare la Cina con un approccio unilaterale. I rapporti tra Unione Europea e Cina sono una realtà complessa, che può diventare anche imbarazzante.